Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con la notizia dell'aggressione avvenuta nella tarda serata di sabato a due medici della continuità assistenziale di Jesolo che erano impegnati nell'attività ambulatoriale a favore della cittadinanza. Le vittime hanno immediatamente denunciato il fatto alla dirigenza dell'azienda sanitaria lamentando le precarie condizioni di sicurezza della struttura. Sono state proprio i due medici a ricostruire quanto accaduto. Erano circa le 22 quando il conducente di un'automobile addetto al servizio di manutenzione avrebbe cominciato a sgommare e suonare ripetutamente il clacson di fronte allo stabile in cui i due professionisti, un uomo e una donna, stavano prestando servizio. La minaccia si è accesa quando i medici hanno iniziato a chiedere all'uomo di smettere di far rumore, una richiesta che ha mandato il conducente in presunto stato di alterazione psicofisica su tutte le furie, tanto da scagliarsi contro uno dei medici iniziando a minacciarlo. I due sanitari temendo che l'aggressione verbale si trasformasse in violenza fisica hanno deciso di mettersi al riparo all'interno della struttura per poi contattare le forze dell'ordine. L'aggressore però essendo in possesso delle chiavi dello stabile sarebbe riuscito comunque a entrare per poi scagliarsi con violenza contro la porta del bagno all'interno del quale uno dei due medici aveva cercato rifugio mentre la collega si era barricata all'interno dell'ambulatorio. Questa notte voi due morirete, ha infine urlato il conducente dirigendosi all'interno del pronto soccorso. Ed è proprio lì che le forze dell'ordine sopraggiunte sul posto lo hanno fermato per poi accompagnarlo in commissariato da dove è stato rilasciato poche ore dopo. Alla richiesta di intervento da parte del personale di sicurezza in struttura abbiamo avuto risposta negativa, ha raccontato il medico che conclude. Un risponso non solo inaspettato e poco auspicabile ma che ha costretto me e la mia collega a restare in piena notte in balia di un uomo evidentemente pericoloso temendo per la nostra incolumità e senza sapere a chi appellarci. Doveva essere un normale controllo stradale ma nel giro di pochi minuti si è trasformato in un fermo della polizia locale per resistenza. Era il primo pomeriggio di sabato scorso quando in mezzo al traffico dell'area commerciale del centro acquisti di Marcon mentre i vigili stavano effettuando i consueti monitoraggi della viabilità che ad un'auto è stato imposto l'alt per degli accertamenti. Il conducente, un 45enne del posto, inizialmente ha rispettato le indicazioni e si è fermato ma appena sceso dal veicolo è subito andato in scandescenze tanto da rendere impossibile il controllo da parte degli agenti, dei documenti e dell'auto. A quel punto i vigili hanno bloccato l'automobilista per resistenza, l'hanno accompagnato al comando dove sono continuate le verifiche. Il conducente dichiarandosi apolide, ovvero senza alcuna cittadinanza, al momento del controllo della polizia locale si è rifiutato di esibire i documenti affermando di non riconoscere l'autorità dello Stato e dunque nemmeno quella dei vigili. L'auto su cui l'uomo viaggiava era radiata senza assicurazione e con una targa autoprodotta. Voltiamo pagina e spostiamoci a Venezia per tornare a parlare del ticket di accesso. Questo weekend, il secondo dall'entrata in vigore del contributo d'ingresso, ha registrato numeri decisamente più bassi rispetto a quello passato, caratterizzato dai ponti del 25 aprile del 1 maggio e dalla presenza del Papa domenica scorsa. Per la giornata di sabato 4 maggio i ticket venduti sono stati 20.081, un dato in crescita rispetto a quello di venerdì, ma inferiore a quello di sabato scorso. Tra gli esempi si annoverano 56.464 ospiti in strutture ricettive del Comune di Venezia, 9.647 residenti in Veneto, 2.658 parenti, 2.951 gite scolastiche e altri 1.209 per altri motivi. Ieri invece sono state 12.250 le persone paganti, il numero più basso dall'introduzione del ticket e circa 64.000 gli esempi. In leve crescita giorno per giorno, ma pressoché stabili, infine, i numeri degli esempi perché studenti 16.464, lavoratori 22.370, proprietari di immobili o titolari di contratti di locazione non residenti uguale 7.091. Si tratta, come premesso, di dati in calo rispetto allo scorso fine settimana, quando erano stati 36.000 i paganti tra sabato e domenica, con circa 13.000 veneti registrati come esempi e 58.000 ospiti in strutture ricettive. Tirando le somme, dunque, se la prima fase della sperimentazione conclusasi ieri ha raggiunto un incasso di quasi un milione di euro, il prossimo giorno di attivazione dei varchi totem e delle biglietterie è fissato per sabato prossimo, sempre dalle 8.30 alle 16, come in questi 11 giorni. La maggior parte della gente ha capito che vogliamo proteggere la città, ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro commentando i dati, che aggiunge è una misura correggibile, migliorabile, però sembra che non abbia dato particolari svantaggi. Nessuno nasconde i problemi e le difficoltà, ma cerchiamo di farcela. Come spiegato più volte dall'amministrazione, quest'anno la misura sarà in perdita, circa 3 milioni di euro spesi per i controlli e la gestione. Ma l'obiettivo, dicono, è quello di raccogliere più dati e gestire meglio i flussi giornalieri. È partito invece ieri da Torino il Giro d'Italia 2024, destinato a concludersi dopo 21 tappe a Roma, domenica 26 maggio. Quest'anno la competizione ciclistica, che vede lo sloveno Tagzei Pogacar come favorito, non prevede un arrivo o una partenza dalla provincia di Venezia, come invece è accaduto l'anno scorso con l'arrivo a Caorle della diciassettesima tappa, ma attraverserà comunque il nostro territorio. Il prossimo 23 maggio, infatti, nel corso della diciottesima tappa, Fiera di Primiero Padova, la carovana dei corridori entrerà nel territorio veneziano all'altezza di Martellago, per poi attraversare Maerne, Mirano, Scalterigo, Dolo, Stra e infine il centro di Vigo Novo, da cui poi la corsa passerà alla provincia di Padova per l'arrivo nella città del Santo. Le variazioni per la viabilità saranno comunicate dalle varie amministrazioni all'approssimarsi della corsa. E veniamo ora all'ultima notizia di oggi e concludiamo come di consueto. Con lo sport, l'Umana Reier onora fino in fondo la stagione regolare, chiudendo con una convincente vittoria, 91-79 finale, sulla Carpegna-Pesaro. Si vola ora verso i quarti play-off che vedranno gli Oro Granata affrontare col vantaggio del fattore campo la UNO-TES Reggio Emilia. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione.